Non ho il mio assistente perché è malato e quindi oggi sarò da solo, voglio provare un po' con una rosca, ho fatto un'altra vasca con dentro carassi e pesci d'atto, non so si scuede, ora ho la canna alla cucar e ammumina l'olumore, provo a metter la canna, una mosca che ho fatto a pescare io, che ho trovato anche molti youtuber, ho fatto io, ho provato anche a pescare un po' a mosca ed è stato molto bello, vi consiglio di andarci a mosca, direi che mi piace sicuramente, non è possibile, probabilmente perché ci siamo noi di solo e non è solo un po' a mosca, non la vedo, non la vedo, non la vedo, non la vedo. Questo è un agliacchio, e ora lo rilasciamo. Questa isca, abbiamo capito, non per incalarsi in pesca vasta magari, e ti apre più nel fondo. Allora, con la mosca abbiamo capito che quando affonda i carassi la marghera. è stato molto bello, anche quando l'ho realizzata, è stato molto divertente. servito, anche se faccio un po' a mosca, e se faccio un po' a mosca, e se faccio un po' a Vediamo che erano più grandi. perché la mostra è fatta per stare a galla e poi ritirare ma con la canna da strassare non è una canna da molla non è una canna non è una canna da molla 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 non è una canna non è una canna non è una canna da molla 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 Ora facciamo un'altra prova, buttiamo qualche perno, vedete, ora galleggia perché ha un sistema di questa peluria che ha il sistema che quando cade in acqua si può salvare. Se invece io vado un po' a bagnare... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.